La cosa è cominciata quando era molto piccola, poi arriva un malore e una sincope, seguiti da un periodo di spossatezza. Le malattie di spossatezza sono cessate nel 1914. Mia sorella non è stata avvertita. Noi partiamo domani per Roma. Io resterò qui fino a che la vigna non si sia restabilita. Iberni ne sono io. C'è per la lumiere che noi abbiamo dei bambini. C'è per la lumiere che noi abbiamo dei bambini. C'è per la lumiere che noi abbiamo dei bambini.